bene ragazzi vi annuncio che dovremmo fare la seconda parte dell'indagine al cimitero francescano nella zona delle scelle di san francesco cappuccini su assalteano e poi ci sarà un'altra indagine la seconda anche questa ufficiale alla chiesina delle spiagge per vedere se salta fuori qualche altra cosa di buono qualcuno ci ha chiesto anche di fare una seconda indagine approfondita nella zona della cavetta o del recipiente dell'acqua praticamente la super la strada che va ai cappuccini vedremo di fare prima possibile le indagini che mancano o i proseguimenti di quelle che devono finire un saluto a tutti e dal grp stefano ciao alla prossima